ciao ragazzi ok 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 vuoi spingere vuoi saltare vuoi tirare vuoi sollevare vuoi correre e magari vuoi arrivare al risultato il prima possibile d'accordo io ci sto sfida accettata ma ti prego fai almeno questo tipo di riscaldamento base perché oltre a riscaldare i tuoi muscoli dovessi riscaldare le tue articolazioni io sono mario il coach lui è super mario la mascotte e questo è un esempio base su cosa dovessi fare prima di iniziare ad allenarti quindi dai un'occhiata iscriviti al canale lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima allenati bene ciao ok come puoi vedere in questa fase devi cercare di allungare bene le braccia e chiudere forte l'addome cercare di fare dei movimenti ampi e lunghi guardando sempre avanti questa è quella fase dove bisogna riscaldare bene appunto le spalle quindi occhio guarda bene movimenti ampi ok in questa fase dobbiamo riscaldare bene la schiena quindi facendo dei movimenti andando giù verso il pavimento e con le gambe non tese ma rilassate e addome chiuso l'idea di questo esercizio è cercare di riscaldare bene neanche quindi le articolazioni mantieni la gamba flessa quella di appoggio chiudi forte l'addome e cerca di fare una circonduzione ampia se non riesci a farlo libero appoggiati da qualche parte in questo movimento ancora continuando a riscaldare la schiena non mantenere le gambe troppo rigide rilassale ecco uno dei movimenti che preferisco di più e che personalmente pratico sempre e ti consiglio di farlo se guardi bene proprio si cerca di allungare bene la colonna e preparare la schiena su tutto fondamentalmente questo movimento è fatto su antero e retroversione del bacino insomma è il bacino che fa controllo a tutto questo movimento ma ci vuole molta pratica per impararlo bene ma ti assicuro che imparandolo ti accorgerai quanto effettivamente puoi riscaldare ulteriormente ancora la tua schiena ragazze quindi mi sembra che ci siamo proprio capiti il riscaldamento è molto importante quindi pratica lo sempre prova ad applicare anche questo che hai appena visto e se hai qualche domanda mi puoi iscrivere allenati bene ciao